Salve, la quarta opera di misericordia spirituale suona così, consolare gli afflitti, dice ah questa la capisco, questa anche risponde alla mia sensibilità, anch'io un amico che è stato tanto sofferente, gli sono stato vicino, ho cercato di consolarlo, ottima cosa, però è un po' più profonda, questa opera ci mette veramente in confronto con la nostra stessa realtà, con la nostra stessa povertà di fronte a certe cose. Che cos'è l'afflizione? L'afflizione quando ti ha preso l'afflizione a te, quando hai avuto un dolore a cui non c'è risposta. Noi siamo in un mondo, capite, che pretende di dare le risposte a tutti, no? C'è il covid, allora metti la app immuni così ti credi che resti immuni, non è vero niente, per carità metti, non voglio, però non c'è una risposta a tanto dolore in questa vita, non c'è. Allora capisci che consolare un afflitto non è dargli una bella pacca sulla spalla, è dargli qualcosa di più, riaccendere la speranza e la speranza la accende solo nostro Signore Gesù Cristo. È una cosa che noi preti per primo spesso dimentichiamo. Nelle parrocchie, nei gruppi cristiani spesso dimentichiamo. Molte volte i nostri gruppi cristiani, che siano parrocchi, che siano movimenti, che siano comunità, quello che sia, vivono la fede come un gruppo di amici che si aiutano l'un l'altro. Le cose non funzionano mai bene poi da questo punto di vista, chi si sente più trascurato, chi si sente... allora nascono anche dissidi, cose stupide e si rischia di perdere la cosa fondamentale. Vedo tante volte le parrocchie sono un centro di servizi, c'è tutto, per i bambini c'è la palestra, c'è il corso di danza, c'è il corso di lingue, il gruppetto che si riunisce quel giorno, tutto organizzato e il Signore è da nessuna parte. Il prete, il prete è un manager, come te l'immagini un prete? È un prete come un animatore di un villaggio turistico che organizza attività così la gente si diverte, si consola, consolare gli afflitti, ammazza. Sapete cosa dice San Paolo? Seconda lettera ai Corinzi, primo capitolo dal 3 al 7. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e di ogni consolazione. Opera di misericordia, consolare gli afflitti. Dio è il misericordioso che consola. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, in ogni nostra afflizione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione. Cioè Dio consola te perché tu possa consolare chi sta nell'afflizione e in che modo? Con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. E qual è questa consolazione? Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Allora il punto è Cristo che ha preso la nostra sofferenza ed è risorto, ha vinto la morte, quella è la consolazione di Cristo. Allora cosa dice questa parola? Che se vuoi consolare davvero una persona ti devi far consolare tu, vivere nel rapporto col Signore una risposta seria alle tue sofferenze, perché quella è il centro della nostra fede, no? Che la morte è vinta, che i tuoi peccati sono perdonati, che qualunque cosa ti è successo, hai perso una persona cara, hai perso il lavoro, pensate a questa situazione di Covid oggi, no? Con queste tante sofferenze di morte, di problemi economici, di sperazione. Certe cose non è che c'è una soluzione terrena, ma c'è la soluzione vera, che supera, ingloba e supera la situazione terrena. È il nostro Signore Gesù Cristo, è la pace che ci dà, la forza che ci dà per ricominciare sempre la vera consolazione, risorgere sempre. Ti benedica il Signore e ti protegga.